Ciao bambini, scopriamo insieme gli artisti. Oggi Romero Britti. Nasce il 6 ottobre del 1963 in Brasile. Si trasferisce da giovani a Miami, dove inizia il suo percorso artistico, affiancandosi agli street artist, prendendo spunto dalle loro forme e dalle loro tecniche per dar vita sui primi capolavori, realizzati sui tagli di giornale e pezzi di cartone. Le sue opere si caratterizzano per una ricerca di colori e vibrazioni positive, che unite tra loro danno vita a motivi audaci e molto fantasiosi. Cuccioli di animali, coppie di innamorati, paesaggi floreani, si affiancano a soggetti astratti, realizzando opere connotate da una potenza di colore, che trasmette positività ed ottimismo. Nelle sue opere l'artista si serve dei più svariati supporti, passando dai murali, sale e tele, tazze, bicchieri e statuine, fino ad arrivare a piccole e grandi sculture metalliche. Le sue opere vengono commissionate dai volti più noti dello spettacolo e delle più grandi aziende mondiali, rendendole molto visibili e note a tutti. Uno stile inconfondibile, che colpisce tutti gli amanti dell'arte e del colore, e che lo ha reso uno dei più affermati artisti contemporanei a livello mondiale. Vi è piaciuto questo artista contemporaneo? Volete provare anche voi? Vi lascio qualche idea. Potresti copiare queste immagini e colorarle come ha fatto lui, oppure scegliendo altri colori. Se realizzi qualche bella opera d'arte e ti fa piacere mostrarmela, puoi farmela bere tramite le tue maestre. Un caro saluto a tutti. Ciao, maestra Jenny. Grazie a tutti.